Siamo messi? Siamo messi? Sì, è una coprizzata per la via. Per la via? Sì, è una coprizzata per la via. Ho toccato. sono un po' scioccato perché non sapevo che dietro quella porticina c'era un pubblico così è meraviglioso, grazie, grazie il figlio stampa, fai un stampo di foto, è bellissimo allora, vogliamo cominciare? vai, siamo parte della forza grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.